Rudy Michelini, alla fine è arrivata la decima, come dicono gli spagnoli, e mi sembra che, ora non lo so, tu mi dirai che non è vero, insomma, anche in scioltezza. No, vabbè, siamo partiti, devo dire, siamo partiti già con un ritmo abbastanza alto, come ho sempre detto, questa macchina qui mi saddice veramente tantissimo alla mia guida, proprio mi sembra di essere a casa, è fantasia. Poi il pacchetto Polo Michelin funziona alla grande, e PA, perché insomma il team dà una grande mano in tutto. No, è stata una bella giornata, abbiamo fatto qualche regolazione, anche sbagliata, infatti abbiamo preso un piccolo rischio, il paraurti dietro è andato, quindi, vabbè, dai, quello, se non disse tutto sì le gare, il primo con un paraurti ci potrei stare. Comunque, sono contento, perché abbiamo fatto il decimo a vittoria di questa bellissima gara, sono contento che, insomma, Lucca è ripartita anche con qualcosa, un evento, che insomma era diverso tempo, che ormai Lucca non aveva più un evento per il discorso del lockdown, questo fa bene a tutto, comprensorio a tutto. Niente, è un buon viatico anche per il campionato italiano, fra una settimana sarete a Roma. Sì, martedì si parte, si va giù a Roma, la prima gara del campionato italiano, i presupposti ci sono tutti per fare bene, questa era, l'abbiamo presa come una gara test e ha funzionato. Sentiamo anche Michele Perna, allora, il rally città di Lucca fra un po' lo chiameranno rally Rudy Michelin e Michele Perna. Eh beh, abbiamo fatto tante vittorie qui, sinceramente, comunque quello che era importante oggi era stare in macchina il più possibile in proiezione di Roma della prossima settimana, ci siamo stati e bene. Abbiamo dei raffronti anche nostri degli anni scorsi, quindi siamo contenti. Ieri quando siamo rimontati in macchina dopo otto mesi allo shutdown abbiamo fatto i primi dieci chilometri dopo otto mesi, però è proprio vero che quando uno sa andare in bicicletta non disimpara mai. Io già al primo giro che ha fatto Rudy ero già tranquillo perché sapevo che oggi ci saremmo divertiti. Grazie.